Una delle sfide più importanti per il futuro per l'oncologia si gioca certamente sul piano della prevenzione e tra i tumori che si possono prevenire ci sono quelli correlati all'infezione da papillomavirus umano, l'HPV. Noi ne parliamo con la dottoressa Nicla Laverde che abbiamo incontrato a Napoli dove oggi si è svolto il convegno Postesmo Italy 2023, un appuntamento organizzato da Women for Oncology Italy per fare il punto sulle novità più importanti arrivate quest'anno dal congresso della società europea di oncologia medica che è appunto l'ESMO. Dottoressa Laverde, la strada del futuro è la prevenzione sicuramente più che mai in ambito oncologico soprattutto nell'ambito dei tumori legati al papillomavirus e non solo il tumore della civice uterina è possibile fare prevenzione? Certamente sì che è possibile e deve essere fatta. Esiste un vaccino che è il vaccino per il papillomavirus. Papillomavirus in questo nome ci sono in realtà tanti ceppi però abbiamo dei vaccini che coprono molti di questi ceppi e che possono efficacemente prevenire i tumori proprio perché il virus papillomavirus è un virus oncogeno. Come si possono prevenire nello specifico questi tumori? Si possono prevenire utilizzando il vaccino. Il vaccino che in questo momento può essere effettuato ai ragazzini sia alle bambine che ai bambini di 12 anni ma possono essere effettuate anche in altre fasce d'età. I tumori che possono essere legati al papillomavirus sono tipicamente il tumore della cervice uterina per cui diciamo c'è un grande alert tra le donne anche perché i ginecologi in questo senso stanno facendo un buon lavoro. Ma poi ci sono anche altri tumori che sono i tumori del canale anale, il tumore del cavorale, il tumore del pene, il tumore della vulva. Ricordiamo che il papillomavirus è un virus a trasmissione sessuale e quindi questi organi sono particolarmente colpiti a seconda anche del tipo di relazione sessuale che si ha. Ma in Italia a che punto siamo con la vaccinazione antipapillomavirus? Purtroppo questo è un tasto dolente perché in realtà non c'è un'aderenza importante. Intanto rimettiamo che veniamo da una pandemia e poi comunque diciamo si sta facendo fatica a ripartire. In particolare direi sulla popolazione adulta. Ricordo che le persone che possono effettuare una vaccinazione sono le donne. Il vaccino è gratuito per le donne di età inferiore a 26 anni ed è in compartecipazione di spesa per le donne di età superiore. E poi è gratuito per le categorie a rischio, in particolare per i maschi che fanno sesso con maschi, i pazienti portatori di HIV e le sex workers. Ecco, proprio a questo proposito lei è stata protagonista di un'iniziativa importante poche settimane fa a Milano. Ci racconta di cosa si tratta? Sì, proprio per sensibilizzare la popolazione a rischio, in particolare i maschi che hanno sesso con maschi, abbiamo pensato di organizzare durante l'orario dell'aperitivo, venerdì sera, dalle 18 alle 23, nel quartiere Arco Baleno di Milano, quindi in Via Lecco, una vaccinazione proprio sul territorio. Siamo andati noi dell'ospedale Sacco, quindi oncologi, infettivologi, studenti dell'Università degli Studi di Milano, col presidente del corso di laurea. Nell'ambito di un'iniziativa a cui tengo molto, che è One Health, cioè di salute globale, di prevenzione, di mantenimento della salute, quindi in questo contesto di iniziativa, siamo andati in quell'area lì e per 3-4 ore abbiamo vaccinato. Sinceramente abbiamo finito i vaccini, abbiamo vaccinato 180 persone. Il fine di questa attività è quella di far conoscere alle persone intanto che sono più interessate, e poi fare cultura, fare divulgazione. Io invito le popolazioni a rischio, soprattutto i medici che curano persone che hanno abitudini sessuali, dove queste sono note, a rischio di promuovere la vaccinazione. Solo così veramente possiamo fare una prevenzione primaria. I tumori che ho elencati sono tumori veramente brutti, pesanti, complessi, perché si possono sicuramente curare, ma sono delle esperienze molto pesanti e per cui, diciamo, raramente per pochi tumori abbiamo proprio la possibilità di fare un'efficace prevenzione primaria. Ecco, cerchiamo di metterle in atto.